Mario Dragone, attaccante dello Spinete, protagonista in quest'ultima di campionato con la doppietta insieme a Tedeschi con questo Spinete che ha costruito la vittoria già dai primi minuti. Ora c'è da giocare domenica prossima quest'ultima chance per la salvezza. Sì, ci siamo dati quest'ultima chance dopo un'annata un po' deludente, però ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà una settimana un po' travagliata perché parlavamo anche con Tedeschi e il mister Varanesa, non avendo il portiere under ci sono forse diverse situazioni da studiare, una formazione, un 11 titolare di partenza un po' diversa. Sì, un po' diversa perché comunque era un giocatore importante Borrega perché comunque ha giocato tutto l'anno in porta, però adesso troveremo una soluzione, la società insieme al mister troveranno una soluzione e faranno il meglio possibile per questa squadra, per raggiungere l'obiettivo. Quale squadra avresti preferito per una gara secca con i play-out, se proprio te la senti di azzardare, oppure una vale l'altra? Una vale l'altra, però Alife l'avrei evitata giusto per il campo, situazione che poi sono di Caserta, quindi Alife è provincia di Caserta, quindi l'avrei un po' evitata perché so un po' l'ambiente, so che è un ambiente duro e un po' ostico, però ce la giochiamo con tutti, qualsiasi squadra. Allo stesso tempo puoi dare suggerimenti allo spinete per come affrontare quella partita, conoscendo l'ambiente? No, ci sta il mister che è più esperto di me, io non do questi giudizi. Grazie. 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 Grazie.